Gli svizzeri non si sbarazzano dei pesticidi sintetici, lo certifica il referendum in cui si impone il no alla proposta di abolizione della chimica per le coltivazioni. Di fatto l'agricoltura intensiva è ancora dipendente dai pesticidi in buona parte del pianeta. La Svizzera peraltro ospita uno dei maggiori produttori di preparati fitosanitari, il gruppo Syngenta, acquisito nel 2017 dal colosso cinese ChemChina. Anche la carbon tax non verrà rafforzata, secondo quanto indicato dagli exit poll, e questo nonostante l'impennata termica che sconta il territorio elvetico per via del surriscaldamento generale. La proposta avrebbe rivisto e rafforzato una legge esistente che mirava a ridurre le emissioni di CO2 entro il 2030. Avrebbe promulgato nuove tasse sul carburante e sul gas naturale che generano CO2, nonché sui biglietti aerei. Gli allarmi della sinistra e dell'opposizione non hanno avuto effetto. Secondo i primi risultati ufficiali, la vittoria del no al divieto è totale. La maggioranza dei cantoni e della popolazione spazza via le due iniziative popolari antipesticidi.